Siamo in diretta? Sì sì. Ciao ragazzi, sono Sara De Kuna Matata e oggi in questa breve diretta vi mostriamo un po' questa capsule collection, la chiamata, dedicata ai papaveri. Come sapete abbiamo pubblicato martedì il tutorial dei papaveri che trovate qua in diverse forme, che rimangono molto verosimili grazie di tutti i complimenti e dei kit che state acquistando e oggi ve li volevo un po' approfondire. Sono praticamente quattro kit che includono quindi il centrotavola, questa che è la borsa in paglia che può essere carina sia da andare in giro oppure come centrotavola magari come portapiante di una bella pianta anche da interno e poi il nostro gnavo papavero, questo qua. Ovviamente come sempre ormai sapete che cerchiamo di dare una linea un po' a tutte le nostre creazioni, invece se magari avete già una base o volete metterli i papaveri da un'altra parte, vi diamo anche l'opportunità di acquistare solo il kit dei due papaveri con il matastencil, boccioliamo. Questo non l'abbiamo ancora mai usato, quindi è il primo tutorial che prepariamo con questo matastencil. Come saprete è una nostra esclusiva, quindi ci faremo diversi fiori e poi nel tutorial vi spieghiamo tutto e quindi direi di iniziare. Intanto non so se ci sono messaggi, dimmi pure, se no io vado... È arrivata Stefania. Ciao Stefania, so che è un orario un po' l'ora di pranzo ma poi lo potete vedere, come sempre rimangono salvate, quindi li potete vedere quando vorrete. Ciao Stefania. Allora, il primo è il kit vasetto estate che potete utilizzare sia come fuori porta, quindi appendendolo, oppure anche come centrotavola, magari sopra un camino, sopra una parete, lo potete appoggiare poi dove volete, è bello stabile. Nel kit, come sempre, è incluso tutti i materiali che vedete, quindi la base in legno, la spugna ad interno, tutta la varia botanica e il kit per realizzare appunto tre papaveri con il matastencil incluso. Quindi, in ogni kit è incluso anche il matastencil. Se lo avete già o se acquistate più di un kit che lo include, ci sentiamo su WhatsApp che vi facciamo il prezzo senza il matastencil. Per chi invece lo volesse sfuso, solo il matastencil è disponibile a 8,90€. Quindi, tutto questo ambaradan di roba vi viene 29,90€ anziché 37,50€. Quindi, tutti i materiali che vedete, uno, due, tre. Poi, il secondo è un kit borsa in paglia con i papaveri. Questo modellino si presta benissimo, secondo me, per essere decorato. Questa borsa qui, anche questa la trovate sul sito. L'avevamo decorata, adesso non la vedo più, è qua. Con il macramè, abbiamo anche diversi filati di macramè disponibili. E, a mio avviso, si presta molto bene per questo tipo di decorazioni, col fatto che ha questa doppia pancia. Sì, poi, per chi sta vicino, facciamo anche i corsi di macramè. Facciamo anche i corsi, sì, sì, siamo ad Ancona, spediamo in tutta Italia, ma abbiamo anche il negozio fisico. E, quindi, questa borsa qui, sempre tutto incluso, quindi borsa, nastro, botanica e il kit per fare il papavero che spieghiamo nel tutorial, vi viene 32,90 anziché 36,85. Lo trovate già scontato sul sito. E, anche qui, se volete, è tutto acquistabile a parte. E c'è anche il matastensil compreso. Anche il matastensil, tutto, la borsa, la botanica. E poi il kit papavero, si chiama, il nostro gnomo, perché comunque era una mascottina. Abbiamo utilizzato qua il tessuto cambamos, il tessuto scaccomatto, ovviamente il kit del papavero e poi la barbetta per gli gnomi. Questo viene 17,90 anziché 20,60 e, come sempre, include anche il matastensil. Quindi, se volete, anche, magari, prendete due kit e pagate solo un matastensil, vi viene sicuramente meno. Ok, e anche qui noi ci abbiamo messo l'imbottitura, ma se ci mettete, magari, un peso all'interno, lo potete usare come fermaporta, così decorate un po' casa e la cucina. Infine, vi faccio vedere, adesso qua non ce l'ho fisicamente, comunque, il materiale per realizzare due papaveri col gambo e più il matastensil, vi viene 14,90 euro. Quindi, qua poi useremo anche gli altri petali per diversi scopi, poi ve lo mostreremo. E vi viene 14,90 euro. Ok, ragazzi, io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Vedo che, comunque, state commentando, vi sta piacendo, quindi vi ringrazio. Se vi è piaciuto anche questa diretta, condividetela, così riusciamo, poi, a creare nuovi articoli e nuovi kit. Fammi sapere se ci sono altri messaggi, altrimenti vi lascio andare. Vi ricordo che spediamo in tutta Italia 5,50 euro, isole comprese. E oltre 79 euro la spedizione è gratuita. Poi, per qualsiasi informazione, ci sentiamo su WhatsApp, il nostro numero è 3494656229. Questo è il nostro bigliettino da visita, che funge anche da tessera punti, tessera fedeltà. Questa è valida fino a fine anno, quindi, per chi ce l'ha già attiva, può usufruire, appunto, dello sconto. Poi, dal prossimo anno, ce ne sarà una nuova. Ogni 8 euro di spesa avete un punto e quando la completate ci sono 10 euro di sconto. Eccola qua. Grazie a tutti per l'attenzione, a presto e buona giornata.